Sarà l'autopsia in corso in queste ore a fare luce sulla morte del neonato di soli due mesi deceduto nella mattinata di mercoledì a Campi Salentina, nella culla della sua abitazione. L'APM Erika Masetti ha formalmente dato l'incarico di eseguire l'esame autoptico al medico legale Roberto Vaglio in seguito all'apertura di un fascicolo di indagine al momento a carico di gnoti per omicidio colposo. È una tragedia consumata sin pochi istanti nel comune salentino, quella che è avvenuta mercoledì mattina e che ha lasciato sgomenta una comunità intera. Secondo quanto si apprende il piccolo da qualche giorno era in cura per una bronchiolite dalla quale non riusciva però a riprendersi. I genitori preoccupati per le sue condizioni di salute si sarebbero recati anche in ospedale per dei controlli in seguito ai quali il neonato era stato comunque dimesso e avrebbe fatto ritorno con la sua famiglia a casa. Qui però mercoledì è avvenuto il triste episodio. La madre sembrerebbe aver trovato il piccolo privo di sensi nella sua culla disperata avrebbe anche raggiunto l'abitazione di un medico di famiglia situata nelle vicinanze per chiedere aiuto ma nonostante le operazioni di rianimazione siano andate avanti per circa un'ora il cuore del neonato aveva cessato di battere. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo. I genitori sono affiancati dall'avvocato Francesco Tobia Caputo nominato in seguito all'apertura dell'inchiesta da parte della procura della Repubblica di Lecce per fare luce sulle cause e accertare eventuali responsabilità riguardo la vicenda.